Volo, volante, volante perché poi ti dobbiamo lasciare andare. Come ti sei trovato in questa foresta di ghiaccio? Ci hanno detto che comunque il territorio è stato protagonista fondamentale per trasmettervi le emozioni giuste. Beh, sì, abbiamo girato in situazioni estreme, sia di freddo che di neve, sulle montagne, dentro ai boschi. Però, guarda, io amo fare film fuori dalle città, quindi in quei posti credo che sia divertente, è anche un'esperienza che dà un senso al fare questo lavoro. Fare un film è anche fare un viaggio e andare a conoscere luoghi e persone che altrimenti non conosceresti. Poi, di solito, quando hai i piedi ghiacciati si recita meglio, perché la sofferenza negli occhi poi viene trasmessa anche ai personaggi. Grazie mille, grazie.